Non è acqua all'interno. 3, 2, 1... Eccolo qua. Marco Tonio oggi vi faccio vedere delle palle delle giapponese dolce che sicuramente non conoscete. Ma aspettate che sicuramente non verrà freccancazion, ma sono qualcosa di molto molto particolare. Ho il pircello duro. Ve lo faccio vedere molto bene da questa confezioncina. Che meraviglia. Poi alla fine del video vi dico anche il costo di questo pircello. Vi rifaccio vedere la confezioncina. Guardatela qua. Che merda. Marco Tonio oggi vi ammazza piccoli pezzi di merda. E poi vi scompa il culo. Eccolo qua. Le mettoni nel piattino e vi faccio vedere come sono fatto. Perché è una piccola farina di soia. Poco di vino. Allora, come si fa a mangiare queste palle? Del giapponese. E vi faccio notare anche la consistenza della palle. È abbastanza... Cioè, è duro. Sembra la plastica di un bel profilattico di quelli tosti. Però non è. Facciamo così. Allora, intanto metto queste due palline. Le metto qua da parte. E vado a scoppiare. In via Maria. Guardate, il cucchiaino lo mettiamo qui così. Praticamente lo si prende in culo. E si va a bucare la palla delle giapponese. Siccome è tutta tesa, fa subito plup. E esce la... Suonera. E' buono. Sì. 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 Grazie per la visione!